Rihane Eisler Insieme all'archeologa Maria Gimbutas e all'antropologa Heide Goetner Abendroth, Rihane Eisler, con la sua straordinaria opera Il calice e la spada, che la scuola delle donne vuole proporre, deve essere considerata una delle tre grandi madri della risorgente cultura della Dea. Il libro uscì nel 1987, 34 anni fa dunque al momento di questa registrazione, e fu una vera e propria rivoluzione nel modo di approcciare la storia, perlomeno tra le studiose e i pochi studiosi non arroccati alla modalità patriarcale. Sebbene il libro sia per alcune cose datato, come il considerare la taurocatapsia e la tauromachia sinonimi, o il considerare il bucranio simbolo dei genitali maschili, si tratta di una vera e propria pietra miliare per la comprensione dell'immensa eredità femminina occultata e persa nei millenni, e divenne in poco tempo un successo mondiale. Riane nacque in Austria, sotto il nazismo. Fuggì insieme ai genitori, prima a Cuba, poi in Florida. Fin da giovanissima ebbe chiaro che tutto ciò che apprendeva si riferiva agli uomini e al mondo maschile. Si laureò in California in sociologia, antropologia e legge. La sua modalità di ricerca, come già quella di Maria Gimbutas, che Riane spesso cita nel suo lavoro, è multidisciplinare. Storia, archeologia, religioni, miti, scienze politiche, femminismo, teoria del caos, teoria dei sistemi non organizzati, vengono studiati in maniera sinottica per ricavare una visione di insieme completa e soddisfacente della perduta cultura matrifocale che Riane ribattezzò Gilanica. Con il neologismo Gilania, creato dall'unione delle parole greche gyne o donna e aner o uomo, Riane identifica il periodo protostorico tra l'8000 e il 2500 a.C., basato sull'uguaglianza dei sessi e sull'assenza di gerarchia e autorità. Di questa fortunata, lunga era, si conservano tracce già dal paleolitico superiore fino a tutto il neolitico, come detto. Riane rifiuta l'opinione dominante, diffusa dalla propaganda ad opera della storiografia ufficiale, secondo cui la violenza fa parte della natura intrinseca degli esseri umani. Al contrario, ritiene che questo dogma sia stato creato e mantenuto da storici e antropologi che arbitrariamente fanno coincidere l'inizio della storia umana con la nascita della scrittura, che cominciò a documentare e legalizzare la cultura del predominio e della guerra. In Il calice e la spada, Riane teorizza due tipi di società, il modello mutuale, in cui donne e uomini interagiscono armoniosamente, e il modello dominatore, che segna l'ingresso in manifestazione del predominio maschile e della sudditanza della donna. Nel 1995 uscì l'edizione cinese, che identificava anche in Asia gli stessi step avvenuti in Europa e Medio Oriente, inizialmente una direzione molto più orientata verso una struttura mutuale, poi la trasformazione in un modello dominatore durante un periodo di intenso squilibrio. Scrive in un articolo tratto dal suo sito, Tanto per iniziare faccio riferimento alla più fondamentale differenza della nostra specie, quella tra le due metà dell'umanità, donne e uomini. In primo luogo, ciò significa prestare attenzione al contesto nascosto degli stereotipi di genere dominanti, vedere come la reale, tra virgolette, mascolinità, sia associata al dominio e alla violenza, incluse le guerre croniche, e come, dovuto alla grande stima dell'uomo e della sua mascolinità, non sia stata data una priorità sociale al lavoro femminile, nutrire i bambini, curare la salute delle persone, mantenere l'ambiente pulito e sano. In secondo luogo, ciò significa riconoscere che i cambiamenti nei rapporti intimi siano ugualmente e in alcuni casi ancora più importanti dei cambiamenti nei rapporti internazionali, che c'è un collegamento tra terrore a casa o violenza domestica e terrorismo internazionale e guerra. In terzo luogo, significa mostrare che il modello mutuale dei rapporti umani sia un'alternativa possibile, che non è una convinzione sorta negli ultimi tempi qua e là, ma che ci sono effettivamente delle prove che dimostrano che essa sia stata la direzione originale della civilizzazione. Al di là delle numerose pubblicazioni in forma di libri, articoli e conferenze in tutto il mondo e dei riconoscimenti internazionali ricevuti, Rianne Eisler ha fatto dei lavori pionieristici per i diritti umani delle donne e dei bambini all'interno di organizzazioni internazionali. Come è evidente a chiunque sappia ancora vedere, le basi della società in cui viviamo sono gerarchia e patriarcato. Per difendersi da millenni di schiavitù, la donna si è emancipata, incastrando se stessa in un ruolo maschile pseudo-ugualitario. Ancora oggi, per esempio, in Albania esistono le bernesce, le vergini giurate, che per sfuggire alla violenza patriarcale accettano di diventare uomini agli occhi del villaggio e come tali vengono trattate per il resto della vita, naturalmente rinunciando a tutto ciò che le identificherebbe come donne, inclusi i capelli e la maternità. Ma non è sempre stato così. Tutto ciò è una matrix, un'illusione nata dalla programmazione collettiva per ottenere la quale sono stati falsificati libri di storia, omettendone una gran parte, tutto il paleolitico e parte del neolitico, ovvero decine di migliaia di anni nei quali invece esiste una società ricca, evoluta, creativa, egualitaria, basata sull'abbondanza, sull'arte e sul culto della dea. Gli studi di Riane Eisler, come quelli di Maria Gimbutas, dato il periodo storico in cui uscirono, si collocano in un terreno di impegno sociale a indirizzo femminista, trovando come unico terreno fertile l'ambiente politico, anarchico e rimanendo ancora oggi in larga misura vittima del pregiudizio patriarcale, delle masse, nonostante l'enorme quantità di prove raccolte e presentate. Oggi, tuttavia, l'opera di queste pioniere è diventata materia di studio e ispirazione anche per quell'enorme movimento di risveglio della coscienza della sacra femminità che in tutto il pianeta vede le donne riprendersi la loro eredità spirituale e il loro potere magico e sacro finora considerato fantasia e fiaba. Conclude Riane, Noi umani siamo molto creativi, ma dal momento in cui crediamo che qualcosa sia impossibile non siamo più in grado di crearla. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi la lettura semi-integrale di Il Calice e la Spada, scaricato gratuitamente da Internet, forum editrice universitaria udinese, associazione AL, laureati e laureate in lingue dell'Università di Udine, traduzione di Vincenzo Mingiardi. Da Devana, buon ascolto.